Gian Maria Annovi con Discomparse, Daniela Attanasio con Vivi al Mondo, Roberto Cescon con Natura, Stefano Dal Bianco con Paradiso e Giovanna Frene con Eredita ed Estinzione sono i finalisti della seconda edizione del premio Strega Poesia. La cinquina di autori ed opera è stata svelata all'Aquila negli spazi di Piazza Santa Maria Paganica, antistanti la sede cittadina del Maxi. Ci siamo accorti che la poesia in Italia sta vivendo un momento di rinascita, di maggiore attenzione da parte dei lettori, da parte degli organi di stampa e abbiamo pensato di dare una mano in questo senso, di portare l'esperienza e la visibilità del marchio Strega anche sulla produzione in versi. Abbiamo una scena italiana estremamente vivace, baria negli stili, nelle forme, nei temi, ci è sembrato giusto quindi portarla ancora di più all'attenzione di chi legge. Presente anche la scrittrice abruzzese Donatella di Pietrantonio, fresca vincitrice con l'età fragile del premio Strega Classico, ossia quello dedicato alla narrativa italiana contemporanea. Penso che nel valutare le opere poetiche ci sia una grande complessità di elementi da tenere in considerazione, sia sotto l'aspetto tematico che sotto l'aspetto formale. Sicuramente gli scrittori e le scrittrici devono restare legate al loro tempo, al tempo che viviamo e farsi soprattutto delle domande sulla evoluzione, sulla transizione che stiamo attraversando. Credo che la letteratura non abbia il compito di dare delle risposte ma sicuramente di porre delle buone domande. Tornando al premio Strega Poesia 2024, autore ed opera vincitori saranno decisi da un'ampia giuria di circa 100 personalità della cultura e saranno svelati il 9 ottobre prossimo a Roma. I cinque finalisti dello Strega Poesia 2024, annunciati all'Aquila, sono stati scelti dal Comitato Tecnico Scientifico del premio, partendo da una rosa di 12 candidati, che a loro volta avevano superato una selezione iniziale che vedeva in lezza oltre 140 autori. Quello tra il Maxi L'Aquila ed il premio Strega Poesia è un rapporto che si struttura e si rafforza. Il Maxi ci sembra una sede ideale e noi collaboriamo da tempo con la Fondazione Maxi, anche a Roma, su eventi culturali. Abbiamo saputo che c'è un percorso che porterà l'Aquila a diventare capitale della cultura nel 2026. Ci è sembrato il luogo giusto, anche perché qui è molto sentito il tema della rinascita materiale e morale della città e per noi la poesia è questa, è un'occasione di rinascita e di cambiamento interiore. Già lo scorso anno, infatti, la sede aquilana del Museo delle Arti del XXI secolo aveva ospitato un evento connesso con il premio Strega Poesia. Allora si era trattato di un incontro con protagonisti, i cinque finalisti dell'edizione 2023, la prima assoluta dello Strega Poesia. Infatti, la cerimonia durante la quale erano stati svelati i nomi dei finalisti, l'anno scorso si era svolta a Torino nel corso del Salone Internazionale del Libro. Per il 2024, insomma, l'Aquila ha raccolto una eredità di assoluto prestigio nell'ospitare un passaggio importante dentro il percorso di un premio, lo Strega Poesia, si giovane ma che fa parte di una famiglia di riconoscimenti letterari dalla tradizione lunga e prestigiosa. Il tutto guardando naturalmente con interesse anche alle prossime edizioni del premio Strega Poesia, questo pure in considerazione del fatto che l'Aquila nel 2026 sarà capitale italiana della cultura.